La leg curl stimola i flessori del ginocchio, ovvero il semimembranoso, il semitendinoso, il bicipite femorale e il gastrocnemio. La macchina deve essere regolata in modo tale che il fulcro della leva si trovi allineato con il centro del ginocchio e la zona lombare sia ben aderente allo schienale. Da questa posizione si esegue una flessione del ginocchio. Durante l'esecuzione è bene mantenere il piede a martello per evitare un'eccessiva stimolazione del gastrocnemio. L'allineamento del rachide non deve subire variazioni. La posizione seduta limita la possibilità che si verifichino dei compensi. Tuttavia, i soggetti meno esperti che eccedono nella selezione del carico cercheranno di aiutarsi attraverso l'estensione dell'anca. In questi casi è sufficiente ridurre il peso. In questi casi è sufficiente ridurre il peso. La immaginazione dell'estensione 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 del gastrocnemio. In questo caso, anche se calmer la possibilità che ci sono così maggiore controllo così. Grazie.